molto bene julian zenger il numero 88 asparu asparu ho finalmente in automobili insieme l'automobile di ceccato automobili per fare qualche domanda per parlare un po di te la città ti vuole bene adesso si date una medaglia a questa una medaglia a quest'uomo io lo amo allora io questa domanda non te la volevo fare ma sono sono obbligato sono vecchio e pauroso dovrai comunque andare piano sono ancora giovane quindi voglio voglio fare sempre un passo avanti il mio prossimo obiettivo sarà di diventare così forte che posso che posso giocare per vincere il scondetto questo è bel saluto in tedesco ai supporter ai fan agli appassionati della pallavolo parla ciao a tutti in tedesco in tedesco in tedesco in cermin buone feste a tutti e se le feste sono già finite vi aspettiamo al palazzetto per fare altra grande festa insieme